Il nuovo disco è uscito a novembre dell'anno scorso, novembre dell'anno scorso erano cent'anni dalla fine della prima guerra mondiale, abbiamo voluto omaggiare tutti i nostri ragazzini che sono andati in guerra, per fortuna io non l'ho conosciuta, spero neanche voi, la guerra, ma abbiamo voluto omaggiare soprattutto il nostro blues, perché il blues americano veniva fuori dai campi di cotone, le tristezze di questi afroamericani, il nostro blues per me sono i cori alpini, le canzoni popolari delle mondine, io parlo delle nostre parti e i canti alpini della guerra nelle trincee, Una di queste canzoni in realtà nasce nelle miniere, quando la mina faceva esplodere la montagna si sentiva prima il botto e poi il fragora della montagna, da qua tapum, questa canzone è stata riadattata al terribile suono del fucile austriaco che faceva prima uno scatto prima di esplodere il colpo e quando sentivi questi due suoni tapum eri già morto, questa canzone parla dell'assalto all'ortigara. Venti giorni sull'ortigara senza il cambio per dismontare Anche Tappum 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 Quando sei dietro quel muretto, solo il mattino non puoi più parlare. Da punto a punto a punto. Da punto a punto. Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Da punto a punto. Da punto a punto. Da punto a punto. Dietro al punto c'è un cimitero, cimitero di noi soldati. Da punto a punto a punto. Da punto a punto a punto. Cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Da punto a punto. Da punto a punto. Smir школi. Grazie a tutti Grazie